Nella notte di Capodanno, quando tutti a nanna vanno, è in arrivo sul primo binario un direttissimo straordinario, composto di dodici vagoni, tutti carichi di doni. Nella notte di Capodanno, quando tutti a nanna vanno, un carico giocondo riempie il quinto vagone, tutti i fiori del mondo, tutti i canti di maggio, buon viaggio, buon viaggio. Grazie